Sì, sì, la prestazione resta e mi fa ben sperare per il futuro perché anche questa sera è la terza squadra consecutivamente che non fa un tiro in porta. E mi chiedono cosa è mancato, nulla, perché fra una mano di Buffon che rallenta un pallone, ma il pallone entra, è un piede di Gallas che salva sulla linea, ma proprio sulla linea, sulla linea, sulla linea, io credo che sia un po' di differenza. E poi ancora Gallas nel finale ha deviato un tiro che poteva entrare. Sì, abbiamo attaccato per 93 minuti tante cose positive, ho visto un bel Setorf in una posizione che non è la sua, ha fatto una partita importante, si dice che manca brillantezza, invece quando fa gol un mediano di sinistra che non ha fatto nella sua vita, nessuno ti dice che hai mancato di brillantezza. Bisogna essere maturi, accettare questa sconfitta che è arrivata dopo una partita che meritavamo di vincere. L'ho uscito in lacrime perché ci dispiace tantissimo uscire da questa Champions League, quindi non ho visto ancora Clarence dopo la partita, ma credo che non può che essere per questo, perché l'hanno dato tutti i ragazzi, hanno attaccato tutta la partita, il pubblico si era calmato perché vedeva il Milan dominare in campo e io ho sperato fino all'ultimo di poter far gol, perché le premesse c'erano e ci siamo andati anche molto vicini. Grazie a tutti.